Se avete del pollo in frigo e siete stanchi di prepararlo alla solita maniera oggi è il momento perfetto per provare una nuova versione SIGLA! Ciao elettori elettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video Noi oggi di Mamma Style vogliamo proporvi una ricetta davvero golosa per preparare il petto di pollo Con l'aggiunta di pochi ingredienti renderete una semplice fettina o bocconcini di pollo in qualcosa di incredibilmente saporito e succoso E allora cosa aspettiamo? Prepariamo insieme questo petto di pollo al pesto con pomodorini Avremo bisogno di petto di pollo, formaggio, pesto, pomodorini e ciligino Pangrattato! Come sempre se ti va lascia un like e iscriviti sul nostro canale e sul nostro sito www.mammastyle.it Potete trovare tantissime altre ricette e tantissime altre curiosità Per prima cosa laviamo e tagliamo a metà i nostri pomodorini Poi prendete il vostro pollo e impanatele con il pangrattato Teglia con dell'olio Adagiateci sopra le fettine di petto di pollo Spalmateci ora il pesto e poi aggiungete le fettine di formaggio Regolate di sale e origano e infine aggiungete i pomodorini tagliati a metà Date un altro giro di olio ed infornate per 15 minuti a 180 gradi E voilà che le vostre fettine di petto di pollo al pesto con pomodorini sono pronte per essere gustate Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti